Poi io devo dire una cosa, l'immigrazione per me in questo caso qui è un'immigrazione positiva, cioè porta a un quid che è l'entusiasmo, l'entusiasmo portato dal nostro ex comunitario è un entusiasmo di chi vuole cominciare, in questo caso anche da zero, venendo da fuori non ha nulla, tranne la sua borsa nulla più, quindi comincia da zero e ha questo ingrediente, questo carattere che è l'entusiasmo, che molto spesso gli italiani un po' rassegnati, un po' sconfitti, un po' viziati hanno invece come caratteristica la rassegnazione, si sono seduti. È un mondo che nei miei documentari, documentari sociali, documentari civili, ho trattato molto il mondo della periferia, quella di Roma è come quella di altre città, fuori trovi persone anche ai margini della società e il cemento armato è il tratto caratteristico di queste costruzioni. A Roma c'è questa torsapienza che ha avuto delle concezioni un po' più umane, diciamo così, però la gente che ci abita è la gente, il popolo, popolo, popolo e mi piaceva inquadrare dopo quello o prima di quello subito dopo il Colosseo, quindi una Roma archeologica e una Roma di cemento armato delle periferie. Secondo me il Totò ci avrebbe abbracciati e baciati perché abbiamo trattato la miseria con comicità. La miseria non è sempre amara, sempre tragica, la miseria può far ridere. Se riusciamo a far ridere nel dolore forse abbiamo raggiunto un bel traguardo perché è anche un modo per esorcizzare, perché andare a vedere Benullo, perché Benullo fa ridere prima di tutto, la gente ha bisogno di sorridere, di ridere, di divertirsi su un argomento molto delicato e per me non era semplice riuscirci, anzi tra l'altro non so neanche se ci sono riusciti, però le risate sono assicurate, trattiamo i problemi delicati con il giusto sorriso, la giusta allegria, tanto comunque li dobbiamo trattare, non è che li possiamo lasciare da parte, quindi meglio così, andate a vedere Benullo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.